E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il Volpe a due code, lanciarazzi esotico aggiunto con l'espansione I Rinegati. Partiamo subito dal perk esotico di quest'arma, questo infatti ci permette di sparare due missili, uno a vuoto che ha la capacità di sopprimere i nemici quindi di disattivare eventuali abilità e uno solare che causa danni nel tempo attivando bruciatura. Inoltre questi missili sono anche forniti di ricerca del bersaglio. Premetto che ho fatto diversi esperimenti riguardo alla traiettoria di questi due missili per capire se ci fosse un modo per spararli separatamente, ovvero mandarne uno in una direzione e l'uno in un altro. Questo è possibile ma è molto molto difficile, innanzitutto per fare ciò non dobbiamo assolutamente mirare a nessuno dei due bersagli, questo perché se mireremo a uno dei due si attiverà la ricerca del bersaglio e quindi i missili andranno entrambi su questo. Per cercare quindi di far deviare le munizioni di questo lanciarazzi dobbiamo innanzitutto sparare senza mirare e inoltre essere anche molto rapidi. Questo perché lo sparo di questo lanciarazzi è molto particolare, infatti questo lancerà i due razzi e dopo una frazione di secondo questi partiranno verso il bersaglio. La bravura nel cercare di sparare questi razzi in due direzioni diverse sta nell'andare da un punto all'altro tra il primo e il secondo sparo. Vi annuncio subito che la distanza che potrete percorrere non sarà molta e che dovrete anche essere molto precisi perché non attivando la ricerca del bersaglio non sarete sicuri che i colpi andranno a segno. Parlando in generale dell'arma questa trova la sua maggior utilità in pvp. Sia perché sparando due missili l'area di impatto è decisamente maggiore, in più con la ricerca del bersaglio è pressoché impossibile che un nemico riesca a non morire. Sia perché il razzo a vuoto che è in grado di sopprimere le abilità nemiche è molto utile contro le super. Nel caso remoto infatti in cui non uccidessimo il nemico che ha la superattiva, questa verrebbe in ogni caso disattivata grazie appunto al missile a vuoto. Per quanto riguarda il pvp invece l'arma fa poco più danno di un lanciarazzi normale, ma in generale non ha nulla più degli altri. Quindi sinceramente secondo me per quanto riguarda il pvp non merita uno slot esotico. In generale l'arma ha un rinculo abbastanza basso, una ricarica media, un'area di impatto medio alta che viene aumentata anche dal fatto che spari due missili, una velocità del proiettile media, una stabilità abbastanza alta e una cadenza di 40 proiettili al minuto. Ci tengo a precisare che non so se questa cadenza sia effettivamente quella di 40 proiettili al minuto, o se conti il fatto che vengono sparati due razzi e quindi la cadenza diventerebbe di 20 proiettili al minuto. Che comunque è abbastanza alta. Quindi ragazzi questa era la recensione del Volpi a due code, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e non conoscete che c'è la talissima. Stiamo in questo video, vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaud, e la tua luce è mia.